Guardi, mi sembra di poter dire che dalle dichiarazioni che hanno rilasciato recentemente i tre, diciamo, del Comitato del Nord, non ci sia nessuna disponibilità da parte loro a dialogare con la Moratti, anzi mi sembra che abbiamo sostenuto in maniera ferma la volontà di sostenere la mia di candidatura, quindi discuta. Grazie a tutti.